I Marvel Studios non sono molto propensi a soffermarsi o persino ad ammettere in realtà i propri errori. L'universo cinematografico Marvel ha avuto un paio di passi falsi creativi all'inizio con le produzioni problematiche dell'incredibile Hulk e Iron Man 2, ma invece di concentrarsi su ciò che è andato storto, hanno applicato silenziosamente ciò che hanno imparato in quei film ai loro progetti futuri. Ma dopo Avengers Save Joe Voltron c'era ancora un personaggio principale che sembrava un po' poco definito, Thor. In Thor riecheggia una figura shakespeariana, in The Avengers è un fratello preoccupato con un sorprendente talento per le battute e in Avengers Save Joe Voltron è un uomo amante dell'idromassaggio con gli esseri extraterreni. Thor The Dark World ha portato il personaggio in un luogo eccessivamente drammatico con risultati un po' misti, quindi quando è arrivato il momento di fare un terzo film su Thor, la Marvel ha deciso di provare qualcosa che non aveva mai fatto prima, riavviare dolcemente il proprio franchise. Mettetevi comodi, perché c'è tanto da dire. In questo processo di cambiamento, anche grazie a una seria modifica dell'organizzazione interna, i Marvel Studios hanno spianato la strada per una narrazione ancora più adace per quanto riguarda il terzo capitolo di Thor. Questa è la storia di come è stato realizzato Thor Ragnarok. Per arrivare al Thor radicalmente diverso che abbiamo visto in Thor Ragnarok dobbiamo prima considerare non solo la rappresentazione del personaggio nell'MCU, ma anche la traiettoria della carriera di Chris Hemsworth. Il primo Thor era forse il rischio più grande della fase 1 della Marvel, un vero film fantasy che doveva anche essere radicato nel mondo dei supereroi basato sulla tecnologia che era per il momento l'MCU. Il regista Kenneth Branagh ce l'ha fatta tracciando parallelismi con Shakespeare e dando a Thor una fidanzata umana, ma il personaggio era ancora un po' rigido alla fine del film. In The Avengers il regista e scrittore Joss Whedon ha fatto emergere le innate sensibilità comiche di Hemsworth, con risultati deliziosi, ma il personaggio doveva ancora sostenere il dramma del film come fratello di un villain tragico. Quando è arrivato il momento di Age of Ultron Thor era sostanzialmente okizzato in quel sequel, costretto a fare lavori faticosi e a pronunciare dialoghi esplicativi destinati a preparare le pietre dell'infinito per i futuri sequel degli Avengers. Tuttavia l'eccellente tempismo comico di Hemsworth brillava qua e là, e al di fuori dell'universo cinematografico Marvel l'attore era ansioso di fare qualche ruolo comico, quindi avere qualche battuta in più. La performance comica genuina di Hemsworth nel 2015 fu Vacation, e sebbene la parte fosse anche un pochino piccola, fece una certa impressione. Diceva molto di lui anche il fatto che avesse accettato di interpretare il ruolo del segretario nel remake del Ghostbusters col cast tutto al femminile. Un ruolo di supporto in qualche modo ingrato, non era però la mossa più attesa per una star del genere in film di supereroi. Ho perso il martello tipo ieri, perciò è abbastanza recente. Dietro le quinte, mentre la Marvel si preparava per un terzo film su Thor, Hemsworth stava aiutando a spostare il franchise in una nuova direzione. Una che avrebbe rielaborato il personaggio come una sorta di simpatico imbranato, invece che un dio senza umorismo. I lavori ufficiali su Thor 3 sono iniziati a gennaio 2014 con il co-scrittore di Dark World, Christopher Yost, e l'ex dirigente della Marvel Studios, Craig Kyle, assunti per scrivere la sceneggiatura. Kyle aveva già lavorato come vicepresidente senior della produzione e dello sviluppo alla Marvel, producendo esecutivamente Thor The Dark World. Anche se The Dark World ebbe successo al botteghino e ricevette recensioni piuttosto positive, la sua reputazione diminuì rapidamente quando fu seguito da film superiori come Captain America, The Winter Soldier e I Guardiani della Galassia. Nell'ottobre 2014 la Marvel annunciò che il terzo film di Thor si sarebbe intitolato Thor Ragnarok, riferendosi a una trama dei fumetti che segnalava la fine di tutte le cose. L'annuncio fu fatto allo stesso tempo in cui la Marvel riverò i piani per una saga di Avengers Infinity War divisa in due parti, portando molti a credere che Ragnarok potesse servire come oscuro preludio al grande evento cinematografico futuro. La produzione continuò, ma nell'estate del 2015 Thor 3 non aveva ancora un regista nonostante Hemsworth e Tom Middleton avessero firmato accordi per tornare come protagonisti. Questo cambiò radicalmente ad ottobre, quando la Marvel scelse in modo piuttosto inaspettato Taika Waititi per la regia. Conosciuto per film come Boy and What We Do in the Shadows Vita da Vampiri, Taika Waititi aveva una sensibilità più comica che sembrava molto strana all'interno del franchise di Thor. Ma era chiaro che già fino a questo stadio primordiale del film la Marvel stava pensando in modo diverso rispetto a quando stava trattando Thor 3 in una fase di preproduzione, poiché gli altri registi in lista includevano Rosen Mashanturber, il regista di We Are The Millers, Rob Letterman di Goose and Bumps e Ruben Fleischer, regista di Zombieland. Nonostante avessero assunto Yost e Kyle per scrivere Thor 3 nel 2014, nel momento in cui la Marvel cercava un regista l'anno dopo, erano ancora aperti a grandi cambiamenti nella trama. Kevin Feige ha spiegato come Y.T.T. ottenne il lavoro in Thor Ragnarok. Ah, quanto mi mancava. Lo studio ha iniziato a condividere con i cineasti le dieci idee che avevano per il film. Erano ovviamente solamente delle idee un po' nebulose di progettazione. Il compito dei registi era tornare con una formula per l'elaborazione di quei film e Taika Waititi tornò nello studio con un montaggio promozionale, ovvero un montaggio realizzato con clip di altri film. La versione che lui aveva realizzato era incredibile secondo Kevin Feige, era uno spezzone accompagnato dal brano Immigrant Song delle Zeppelin. Quindi, fin dall'inizio, quella canzone ha in qualche modo definito quello che Taika Waititi avrebbe fatto con questa pellicola. Erano in corso poi discussioni su come rendere Thor 3 un film diverso dagli altri della saga. E un momento chiave di intuizione è arrivato quando hanno deciso di far collaborare il personaggio di Hemsworth con l'Hulk di Mark Ruffalo. E infatti Kevin Feige ha spiegato che la loro intenzione era quello di inserire nuovi personaggi per dare una ventata di aria fresca e, in particolare, dimenticare anche alcuni personaggi del passato. Quando l'idea di Hulk è emersa nella Writer's Room, la Marvel era in post-produzione con Avengers Sage of Ultron, che si conclude con Hulk, che vola da qualche parte. Inizialmente Feige disse a Whedon che non poteva suggerire che Hulk stesse andando nello spazio. Hanno suggerito infatti a Joss di non specificare questa cosa, perché avrebbe comunque creato il sospetto che si andava a creare Planet Hulk. Mentre in realtà la Marvel, come ha dichiarato Kevin Feige, non aveva assolutamente idea di che cosa fare con questa intuizione, ovvero con Hulk che vola da qualche parte altrove. Alla fine Feige prese la sua decisione, Hulk sarebbe apparso in Thor Ragnarok. Infatti, in maniera molto ironica, il film Thor Ragnarok inizialmente era chiamato Planet Thor come titolo provvisorio. Quando Taika Waititi ha firmato per dirigere Thor Ragnarok, il casting è iniziato immediatamente. Cate Blanchett è stata assunta per interpretare la cattiva del film, Ela, e nello stesso periodo è stato ingaggiato lo sceneggiatore Stephanie Folsom, celebre per Toy Story 4, anche se non ha tenuto alcun credito nel film. Eric Pearson è stato assunto per lavorare ulteriormente sulla sceneggiatura, e anche Taika Waititi ha detto di aver dato una mano all'impostazione generale del tutto. È stato decisamente un lavoro di squadra, poiché tutti erano fondamentalmente impegnati a dare una nuova vita al personaggio e al franchise. Per Taika Waititi, infatti, questo non è stato un Thor 3, ma un Thor 1. Quello che voleva fare Taika Waititi era realizzare un film di Thor come se fosse una sua versione del personaggio, ma nel miglior modo possibile. Taika Waititi ha tratto ispirazione dal classico di John Carpenter, Grosso Guaio Chinatown, rappresentando Thor come un eroe che vuole solo riavere indietro il suo camion, tra virgolette. Taika Waititi è molto legato agli eroi che passano davvero attraverso delle prove e poi escono dall'altra parte completamente cambiati. Escono trasformati e sono stati messi alla prova. Ha utilizzato questo approccio proprio per Thor. Ragnarok significa abbattere l'ordine costituito e poi costruirlo in un modo nuovo. Dobbiamo fermarla qui ed ora, per evitare Ragnarok. Thor Ragnarok esprime esattamente l'intenzione che i creativi avevano nei confronti di questo franchise. Quando Pearson è entrato nel progetto, c'era un elemento della trama che ha deciso di eliminare. Una storia di amore tra Thor e Valkyria di Tessa Thompson. Quando Pearson ha preso in mano le redini della sceneggiatura dei primi sceneggiatori Craig Kyle e Christopher Jost, Thor e Valkyria si erano avvicinati in maniera intima. Ma quello che volevano arrivare rappresentando il personaggio di Valkyria non era un sentimento amoroso. Volevano dare a Valkyria la sua storia in modo che si potesse connettere a Thor, ma in un modo che potesse essere sensato. E in questo caso, per la natura della storia, la loro relazione non aveva alcunché da dire all'interno del film. Era essenziale infatti dimostrare un rispetto reciproco nonostante la loro divergenza di idee più che una relazione amorosa. Abbiamo infatti da un lato qualcuno che ha cercato di annegare i suoi dolori nella bottiglia e quindi Pearson ha pensato che fosse una cosa così interessante che non si vede spesso in questo tipo di film. Qualcuno che lotta con una colpa e con una vergogna su uno sfondo colorato e divertente diretto dalla penna comica di Takawa Titi. Le riprese di Thor Ragnarok sono iniziate ufficialmente il 4 luglio 2016 in Australia, ma prima dell'inizio delle riprese, Waititi ha convinto con successo a girare una scena tra Thor e Doctor Strange che si sarebbe inserita perfettamente all'interno della trama di Thor Ragnarok. La scena è stata così ben realizzata secondo lo Studios che venne utilizzata come scena post-credit per Doctor Strange, introducendo quindi al pubblico Thor Ragnarok. Taika Waititi è arrivato persino a dire che l'80% del film è stato completamente improvvisato nelle battute. E che capita spesso che lui non si metta dietro alla telecamera, ma accanto alla telecamera, pronto a dire alle persone cosa devono fare e come devono dire la loro battuta. Quindi gran parte delle battute del film derivano proprio dall'intuizione istintiva di Taika Waititi. Ulteriori riprese hanno ulteriormente plasmato il film e persino Taika Waititi ha vacillato sulla durata finale. Infatti la sua prima versione era di 2 ore e 40. C'è stato un momento in cui si pensava che sarebbe stato ridotto circa a 100 minuti, ma dopo il Comic Con hanno deciso di rimettere molte battute che avevano precedentemente eliminato. Thor Ragnarok è stato rilasciato nei cinema il 3 novembre 2017 ed è stato un grande successo. Non solo ha incassato un sorprendente 854 milioni di dollari al box office mondiale dopo un weekend di apertura da 122 milioni, ma ha ricevuto recensioni estremamente positive. I critici hanno elogiato il tono rinfrescante del film e la tavolozza visiva colorata e per non parlare poi della rinvigorita interpretazione di Chris Hemsworth. Bantava infatti una colonna sonora incredibile di Mark Montersbaugh, ponendo fine alle serie Marvel di colonne sonore originali per lo più estremamente sciatte o dimenticabili. Se Kevin Feige o gli attori dell'MCU in precedenza erano resti a parlare apertamente dei precedenti insuccessi, Thor Ragnarok sembrava una dichiarazione piuttosto forte. Il quasi completo reboot di Thor è essenzialmente un'ammissione di colpa che i due film precedenti non sono stati perfetti e ci è voluto qualcuno come Taika Waititi per portare alla luce il carisma di Hemsworth nel miglior modo possibile. È anche impressionante riflettendoci che a Taika Waititi sia stata data tanta libertà di lavorare e giocare con Thor e i personaggi che lo circondano. Rispetto ai due precedenti film di Thor, Ragnarok è essenzialmente un film corale, dalla ripresa di Loki di Hiddleston all'irresistibile Korg interpretato proprio dal regista Taika Waititi. Thor Ragnarok ha segnato un cambiamento significativo nell'approccio del Marvel Cinematic Universe fino alla realizzazione del film e il tempismo non è stato casuale. Prima dello sviluppo di Thor Ragnarok la struttura dei Marvel Studios era tale che Kevin Feige riferiva direttamente al CEO di Marvel Entertainment, Ike Permuter, una figura notoriamente odiata da tutti i reparti produttivi della Marvel, che ha preso decisioni brillanti come limitare il numero dei giocattoli di Black Widow perché i giocattoli per ragazze non si vendono bene e infatti poi Black Widow ha avuto il suo film spin-off tanto atteso che Hick Permuter ha sempre bloccato sul nascere. Inoltre Permuter aveva istituito un comitato creativo Marvel composto da individui che avrebbero dato suggerimenti sui film Marvel in sviluppo. Pensate che questo comitato era così brillante che avevano suggerito a James Gunn di abbandonare la scelta della colonna sonora anni 70 di Guardiani della Galassia perché secondo loro presumibilmente erano le ragioni per cui Edgar Wright aveva deciso di abbandonare Ant-Man, ma nell'agosto 2015 Feige ha riorganizzato con successo il modo in cui venivano realizzati i film dai Marvel Studios. Finalmente Feige non doveva più far riferimento a Ike Permuter, ma invece avrebbe riferito direttamente al capo degli studio Disney, Hal Horn. Ciò significava che non c'era più interferenza da parte di Permuter e dopo questa ristrutturazione uno dei primi ordini del giorno di Feige fu di sciogliere il comitato creativo Marvel, a sua detta inutile. Entro ottobre 2015 Feige aveva assunto Taika Waititi per dirigere Thor Ragnarok e quell'inverno aveva portato nuovi scrittori a lavorare alla sceneggiatura. La libertà creativa che ha permesso a Thor Ragnarok di essere così estremamente originale è stata il risultato diretto di questo nuovo e importante cambiamento organizzativo alla Marvel nell'agosto 2015. Che cosa rende un personaggio simpatico? Non certo il livello della sua potenza o della sua superpotenza. Ciò che ci piace vedere in un eroe è il suo viaggio, essere presenti per l'intero suo percorso. E quel viaggio è ciò che chiamiamo arco narrativo del personaggio. Gli esseri umani sono unici nel modo in cui vedono i viaggi rispetto a tutti gli altri esseri viventi. Elogiamo quelli che sono i migliori tra noi, gli esemplari fisici e quelli che mentalmente sono più capaci. Sono questi i principali personaggi che noi riusciamo ad accettare quando leggiamo un libro, quando vediamo un film, quando vediamo una serie. Ci piacciono i personaggi che iniziano da umili inizi e mostrano almeno un segno di umanità. Ecco quindi dove sorge il problema con Thor. Thor The Dark World è quasi universalmente riconosciuto come la pecora nera del Marvel Cinematic Universe. E il problema non è la mancanza di umanità, ma la mancanza di un viaggio. A Thor manca qualsiasi arco narrativo in questo film. Un'idea ribadita dalla regista Patty Jenkins che rifiutò di dirigere Thor 2 a causa di una sceneggiatura che riteneva orribile e in seguito fece fra l'altro una storia molto simile chiamata Wonder Woman. Un'idea simile però è stata ripresa all'interno di questo film, in Thor Ragnarok. Infatti Thor Ragnarok sembra quasi un eccesso rispetto a Thor The Dark World. Non avendo quasi nessun arco narrativo nel film precedente, Taika Waititi ha conferito a Thor ben tre diversi archi narrativi in un singolo film. Un arco narrativo del personaggio è il viaggio interiore che un personaggio compie nel corso di un film. Può essere semplicemente come un personaggio accecato dall'arroganza che viene privato dal suo potere che scopre successivamente per cosa sta combattendo e per cosa sta sacrificando la sua vita. Di conseguenza emerge come una versione migliore e più evoluta di se stesso. È il modo in cui un personaggio cresce, cambia e impara nuove cose mentre la storia si svolge. Per rappresentare questo tipo di viaggio dell'eroe nessuna serie lo fa meglio di Kung Fu Panda. Ebbene sì, ciascuno dei tre film di Kung Fu Panda rappresenta i tre archi narrativi possibili che possiamo incontrare in un positivo viaggio dell'eroe. Innanzitutto abbiamo l'arco del cambiamento dove un eroe, di solito una persona normale, intraprende un viaggio radicale e una trasformazione sia internamente che esternamente per emergere come una persona completamente nuova. E questo è il primo film di Kung Fu Panda. Il secondo invece è l'arco di crescita dove il personaggio prende atto di nuove informazioni che cambiano chi sono internamente e il loro ruolo rispetto al mondo. Quello che viene detto è devi lasciarti alle spalle il passato perché non conta, l'unica cosa che conta è ciò che scegli di essere ora. E questo è Kung Fu Panda 2. E infine l'arco piatto dove il personaggio inizia già conoscendo completamente se stesso e piuttosto cambia la vita degli altri. Non devo trasformarti in me, devo trasformarti in te. Questo è Kung Fu Panda 3. Ciascuno di questi archi narrativi è incarnato perfettamente dal viaggio di Thor Ragnarok. E ho iniziato un viaggio in cerca di me stesso. Mentre il primo film era in gran parte un arco di crescita, uno di Thor che giungeva a patti con la sua posizione come qualcuno con il privilegio di proteggere gli altri, Ragnarok lo mette alla prova facendogli subire un cambiamento, togliendogli attaccando il simbolo stesso che lo rappresenta. È esattamente questo che fanno gli eroi. Facendo così, Waititi sfida l'essenza stessa di ciò che lo rende ciò che è. Questo cambiamento rende esplicito che Thor dovrà diventare qualcun altro se vuole proteggere chi gli sta vicino. L'arco di crescita emerge non emozionalmente, ma intellettualmente. Fino ad ora Thor è stato l'immagine simbolo della potenza bruta, ma per sconfiggere i suoi avversari deve superare la sua dipendenza dalla forza e superare in astuzia i suoi nemici. Un tema che viene incarnato sia dal cambiamento che dalla crescita. Come rende chiara la battuta, questo non era mai stato per fermare Ragnarok, era per causare il Ragnarok. Il più affascinante di questi archi è quello piatto, perché invece di dimenticare tutto ciò che ha fatto fino a questo punto, Waititi sceglie di costruire qualcosa su questa base. Non si tratta della corona, si tratta delle persone. Le persone stanno morendo, il suo popolo sta morendo. Le lezioni che vengono impartite dal primo film sul personaggio sono l'elemento base, ma questo diventa solamente il primo tassello di una costruzione che vada oltre questo principio. Una delle cose peggiori che il pubblico detesta è la ripetizione. La ripetizione è la ripetizione, come dice un famoso detto. Uno dei maggiori problemi che affliggono le serie tv, che devono durare più stagioni e continuare a tornare indietro sulla crescita del personaggio, è quello di creare un loop infinito per quanto riguarda questo aspetto. I tre archi narrativi mostrano quanto Taika Waititi sia bravo a comprendere le emozioni umane e l'empatia, mescolati insieme a un'ottima conoscenza cinematografica, culminando in quello che posso solo definire come il primo triplo arco narrativo della storia. Ci piace che i nostri supererori rimangano fedeli alla loro immagine originale, i personaggi possano avere un cambio di costume di tanto in tanto, ma alla fine devono tornare nelle vecchie calzamaglie. Ok, certo, Iron Man può avere quante più armature riesce a replicare, ma ciò parla specificatamente della sua natura. Se incontriamo per la prima volta un eroe con una barba e una lunga chioma fluente, quell'immagine rimane come sempre impressa nella nostra mente e quindi il personaggio diventa un'icona. Deviare dal design originale è la via più rapida per suscitare le proteste dai fan. Superman senza mutande rosse è una blasfemia. Meglio non parlare quindi del suo periodo in blu elettrico. Thor è un dio norreno, è il dio norreno, che si stia ammirando il dettaglio grafico di un qualche romanzo fantasy di bassa lega, studiando un testo scolastico per esempio, o convincendoci della validità di Vincent Donofi di Adventures of Babysitting, il personaggio ha sempre avuto bisogno di una chioma alla vida sassun. È come Sansone, privarlo dei suoi capelli significa privarlo del suo stile epico. No, ho vinto io, facile. Fin dall'inizio Thor Ragnarok sembra diverso da qualsiasi altro film dell'universo Marvel. La voce del regista Taika Waititi è così forte che è estremamente veloce nel sottolineare l'assurdità della narrativa del fumetto, e è anche quindi evidente come egli abbia un amore profondo per questo tipo di buffoni. Il successo del film dei Guardiani della Galassia ha dimostrato che il pubblico era a suo agio con un umorismo bizzarro e con una tavolozza di colori cosmica. Waititi prende quella licenza e spinge le vibrazioni di Thor Ragnarok oltre il limite. Il film è veloce nel liquidare nel concludere le questioni rimaste in sospeso in Age of Ultron e in Thor The Dark World. Le sue visioni di Ragnarok lo hanno portato a combattere il demone di Focosurtur. L'Armageddon viene quindi interrotto dopo una rapida rotazione del Mjornir e la canzone Immigra Song delle Zeppelin. Se Thor The Dark World aveva comunque cercato di invertire il concetto di pesce fuor d'acqua trascinando Jane Foster in una piena avventura fantasy, Thor Ragnarok strappa nuovamente Thor dal suo ambiente familiare, prendendo ulteriori misure per distruggere il suo senso di dignità. Tant'è che Odino dice che Thor non è in teoria degno di quel trono, in quanto non è il suo primo genito. Quel trono, che lui ha rifiutato per tutta la vita, non è il suo posto di dritto e quel martello che lui solleva aveva un padrone prima di lui, suo padre, Odino, colui che è svanito dall'esistenza lasciandogli un regno costruito sul massacro. Ed è qui che fa il suo ingresso Ela, il villain del film, sorella di Thor e dia della morte. Esce trionfante dalla sua prigione, riduce il Mjolnir in ciottoli e utilizza il Bifrost per tornare su Asgard, dove è pronta a regnare in eterno. In questo film ha anche una sua grande apparizione, Hulk. Hulk è sempre Hulk, Banner è sempre Banner ed entrambi si odiano a vicenda. L'incapacità delle precedenti versioni di accettare Hulk come un uomo a sé stante, con i suoi desideri e le sue ambizioni, è una grande ragione per cui il personaggio ha avuto diversi problemi nel corso del Marvel Cinematic Universe. Ragnarok quindi accoglie queste critiche, elevando sia la commedia che la tragedia di questo personaggio. Waititi si diverte con le offese di Thor a Banner davanti ad Hulk e poi viceversa. Hulk come il fuoco violento, Thor come il fuoco soffocato. Allo stesso tempo, vedere Hulk picchiarsi ripetutamente per mantenere alta la sua rabbia mentre si riduce di nuovo in Banner alla vista della videochiamata di Natasha è estremamente straziante. Entrambe le personalità hanno il diritto di vivere. La lotta di Hulk per il riconoscimento è il film da solo che ci serve, non Banner che impara a regolare la sua calma. Thor Ragnarok è un piccolo miracolo di film, è facilmente il film più divertente di tutta la saga, forse di tutto il Marvel Cinematic Universe se non esistessero i Guardiani della Galassia. Perché questo film non fa altro che prendere le due action figure peggio gestite dell'intero Marvel Cinematic Universe e li libera dai loro soliti accessori, ridefinendone l'attrattività. Thor non è il dio dei martelli, è il dio della tempesta. Inizia quindi Immigrant Song, inizia la consapevolezza che Asgard non è un posto ma è un popolo e questo è uno dei concetti filosofici più interessanti di tutto il film e di tutta la saga di Thor. Thor Ragnarok è un film divertente, avvincente e visivamente attraente, ma non stiamo parlando di un film che è solo intrattenimento. C'è una filosofia alla base del personaggio di Thor e di quanto effettivamente pesi il ruolo che ha questo personaggio action all'interno del suo mondo. Parte di ciò che è interessante sul personaggio di Thor proviene proprio dalla mitologia norrena. Il concetto di Ragnarok è il destino degli dei, il crepuscolo degli dei. Potrebbe essere considerato ciclico piuttosto che apocalittico e potrebbe essere spirituale invece che fisico. La mitologia norrena, almeno su quello che è la comprensione basica di essa, lascia queste domande alla contemplazione umana. Thor Ragnarok prende alcune decisioni cruciali su come rappresentare questa grande battaglia, ma al di là degli effetti speciali, gli spettatori appassionati di Thor Ragnarok potrebbero voler approfondire la mitologia norrena per comprendere come né il potere né la distruzione siano assoluti o definitivi e cosa ciò potrebbe significare. Al centro di queste lotte divine, il Ragnarok, ci sono le persone che vivono a Midgard, noi umani. Un messaggio esplicito del film è che il territorio non è ciò che conta veramente per gli asgardiani, purché questi possono reinsediarsi in un altro territorio. Quello che importa è la comunità, le persone che compongono un popolo, non la nazione, non il regno in sé. L'irrilevanza del territorio è anche un messaggio problematico per ciò che presuppone riguardo all'identità. Le persone possono continuare a vivere come individui, ma non ne consegue che sopravviveranno come popolo, e che le loro vite continueranno ad avere significato come prima. Essere un popolo è un'identità di gruppo. Questa affermazione non richiede un'entità metafisica separata sotto forma di gruppo, sebbene sia sicuramente comprensibile in questi termini olistici. Potrebbe anche essere inteso in termini di relazione che hanno le persone tra di loro. Queste relazioni potrebbero essere principalmente relazioni tra individuo e individuo, famiglie, amicizie, attività condivise o cose simili. Oppure potrebbe anche includere credenze condivise come tradizioni culturali o pratiche religiose. Un popolo potrebbe avere attività legate alla terra, come l'agricoltura, le feste del raccolto e il proprio culto. Spezzare questi legami con la terra potrebbe rendere praticamente difficile o addirittura concettualmente impossibile per molte persone continuare ad esistere nella maniera in cui esistevano precedentemente. Non c'è neanche alcuna garanzia che il popolo troverà terra dove poter continuare a esercitare ciò che li unisce. Alla fine di Thor, le persone di Asgard apparentemente si stanno dirigendo verso la terra, un bellissimo posto che, non sorprendentemente, assomiglia molto alla costa norvegese. La riflessione che Thor Ragnarok attiva su quella che è la credenza e l'importanza del territorio per un popolo è estremamente interessante ed approfondire. Grazie per avermi seguito fino a qui. È stato un viaggio lungo, lo so, ma spero che ne sia valsa la pena. E come sempre ti invito a scrivermi un feedback di questo podcast sui miei social. L'appuntamento è fissato per il prossimo episodio. Ciao a tutti!